ciao a tutti e bentornati in questo nuovo giveaway degli rz il giveaway più importante il giveaway dei 1000 iscritti quindi se siete iscritti al canale basta commentare questo video ciao partecipo o quello che volete ora tanti scriveranno quello che volete simpaticamente e partecipate al giveaway avete tempo fino al 5 novembre fino alla mezzanotte di domenica 5 novembre quindi alle 23 e 50 5 59 ma facciamo 9 se lo impazziamo 23 e 59 e 59 secondi per iscrivervi e partecipare al giveaway basta commentare video sotto poi il vincitore tramite sorteggio che faremo poco dopo il 5 novembre vincerà questo fantastico pikachu 151 sb 2a 173 giapponese una carta spettacolare che non troveremo mai in italiano visto che non abbiamo praticamente trovato niente ad oggi ancora abbiamo mezzo tv da aprire dagli rz che mi ringrazio per aver finalmente superato il muro irraggiungibile dei 1000 iscritti quindi adesso puntiamo a 10.000 certo stasera facciamo 10.000 quest'anno avremo 10.000 da 1 a 10 magari è tutto noi vi ringraziamo come sempre e ci vediamo alla prossima ciao 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 Grazie!